Fino a poco tempo fa, chi temeva che l'elezione di Donald Trump avrebbe portato l'America a una deriva autoritaria veniva considerato un critico troppo duro. Ma ora, dopo i mesi in cui abbiamo visto il Presidente degli Stati Uniti attaccare la stampa libera, definire CNN e New York Times nemici del popolo e mettere in dubbio i dritti civili delle minoranze etniche, dei gay e delle donne, l'idea che Trump sia un Presidente antidemocratico non appare più così estrema Per difendersi dalle indagini sullo scandalo Russiagate, Trump ha prima licenziato con una scusa il direttore del FBI James Comey e poi ha sparato una raffica di insulti e false accuse nei confronti del procuratore speciale Robert Mueller. Ha persino mandato il suo avvocato personale a sostenere senza successo che, seppure Trump avesse ostacolato la giustizia, reato penale in America, non sarebbe incriminabile perché lui è il Presidente e il Presidente, secondo lui, può fare qualsiasi cosa. Appena una settimana fa, Barack Obama ha paragonato l'America di oggi alla Germania nazista. Le cose possono precipitare velocemente, ha munito l'ex Presidente. Dobbiamo coltivare la nostra democrazia. Per i suoi destrattori, Trump è un neofascista, un aspirante dittatore che disprezza le leggi e i valori della democrazia. Eppure i suoi fan credono ciecamente in lui. Qual è la verità? Trump è arrivato a dichiarare pubblicamente che a lui non importa dei dritti umani. Per tanti americani questa non è l'America dei nobili valori che hanno conosciuto in passato. Quella di Trump è una democrazia sotto assedio. In questi giorni, gli abitanti dell'Alabama, che oramai da decenni votano compatti per il Partito Repubblicano, hanno voltato le spalle al candidato di Trump, il razzista molestatore di quattordecenne Roy Moore, per leggere invece il suo rivale democratico. Che sia un segnale di un'inversione di tendenza, Trump continua a mostrare i muscoli, ma sotto di lui il pavimento comincia a squicchiolare. Forse il sistema americano alla fine rigida.